AGGONT mah KAGGONTO AGGONT SI Po staza Che mi si fai caduto suii stai qua che è successo? vado la settimana dai 8, noi mi rispondo come è bello? ho sentito che ho fatto un po' ciò dovevo scassare? ci scassa tutto tu sai? oh, hai fatto? sei certo? che qua? mi hai tratto già su questa banca hai capito? da te la finisce il russo del direttore lati! 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 che è successo? da stamattina che io sto chiamando non mi rispondi io mi devo prendere i soldi come devo farli? dopo che mi andranno battendo i soldi col banco questo è quello che ho preso lo devo dare, versare e devo prendere i soldi miei da stamattina ce le chiamate qua dalle 8 e mezza stamattina scusi, questa è dalla BNL, non può andare alla BNL? no, lo devo versare no, la BNL è chiusa è chiusa perché hanno trovato uverus e beh, ci sono altre filiali della BNL no, è tutto chiuso allora io lo devo dare e mi devo prendere le 2-300 euro ma da stamattina sto telefonato qua ci sono le chiamate dalle 8 e mezza mattina fino alle 12 non mi rispondono, mi ho detto che prendo appuntamento ma se voi non rispondete che appuntamento prendo? non glielo posso notare qua adesso direttamente un appuntamento pure nel pomeriggio viene e riesce a cambiare vediamo un po' vediamo un po' se riusciamo a mediare qua ma non c'è la possibilità di dare un appuntamento per il pomeriggio per il signore? è proprio chiusa la filiale? ho capito, come deve fare per versare questo? hai detto, hai il conto qua? signor Bufato con un botch ae, non faccio le rossi signor Bufato con un botch a me, non faccio le rossi a me, non faccio le rossi discusa il conto qua che usa? oi, ae che? ma, non faccio le rossi cerchiamo con calma di risolvere la sensazione grazie ci sono le rossi ma sì, ma le rossi perché nel tuo centro non le sappiamo niente c'hai il conto qua? il signore? c'hai il conto qua? mi conoscono non le rossi che loro sono né qua ogni giorno c'hanno direttore perché allora, si conosce siete latri siete latri siete latri vado e con tutti che non ti ha coperto con il bastardo che non è è inutile ma, allora io lo faccio non uccidre caldo che se stanno cercando di risolvere il problema ma le so che qui sono tutto cronuzzo ma non ti ha coperto la cappia vabbè vabbè comunque, se da me se vedi, quello non la farai trovare più e no, vabbè mi conosce e passa tutta la cappia c'hai il conto 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 allora c'hai il conto c'hai il conto c'hai il conto c'hai il conto e poi c'hai il conto in questo caso non ti viene a andare tante cose non ti viene a garne non viene a garne dame un hop un metro non potremmo poi sei mi accompagnato un momento vado a lavorare c'hai il conto non c'hai il conto eh no lo stai a fare io non ti metto mai dai e guarda dai risolviamo la situazione E qui, con calma... Ci si hanno rubato un casino triste, i figli del carino. Cambiamo bocca, quanto sarebbe? Quando cambiamo in banca. Banca, dopo che non hanno rubato, se cagli la banca. Eh, vabbè, ci sono tante banche in Italia. Vesce. A Bari pure, stiamo pieni di banche. Vabbè, questo è più di me. Ok. Un attimo solo, dai. E qui, con calma, si risolve tutto, è inutile stare... Adesso, in questi momenti, se li ha pagato il casino, non risolviamo niente. Ah, io l'ho detto, io ti faccio vedere domani, le telefonate sono alle 8 e mezza. Domani, alle 12 e 10, vieni e ti faranno il... il versamento e ti daranno... Ma poi mi conosce, capito? Questo è il problema, che mi conosce, e fa pure... di qua c'è il... Allora, fa pure la scempa, la scempa, la scempa. Senti, eh... il registro è dell'onore.